salve amici di youtube qui parla niki e volevo oggi parlare un poco dell'impresa dx n ok dx n questa impresa qua un'impresa della malasia è un negozio che sto facendo adesso di prodotti naturali col ganoderma ok un fungo millenario lo chiamano anche milagroso sì e quindi ho questo prodotto qui per esempio è un cioccolato con il ganoderma ok io perché ho preso questo cioccolato perché come oggi sono stitica mi ha aiutato molto e mi ha aiutato molto andare in bagno io ho provato diversi prodotti diversi negozi eccetera tutti i prodotti naturali la farmacia anche le boristerie eccetera quindi però nessun prodotto mi ha fatto tanto effetto come questo ok questo è un estolo per la stitichezza ok uno va bene per i bambini per le persone incinte per le persone anziane ok anche per le persone adulte ok stiamo parlando l'anemia il colesterolo il sistema immunologico e all'antioxidante produce ormoni ok enzima e l'allergia di qualche tipo aiuto anche per la crescita muscolare per quello va bene anche per l'igno aiuto nella concentrazione combattere l'insonnio la gente che fa fatica a dormire ok e esteroporosi ossa e energia ok ed è anche energia abbiamo anche dei caffè caffè e tè e anche le capsule ok la capsula e contiene più ganoderma che i caffè e il cioccolato eccetera ok però buono alla gente che ti piace il bere il caffè come come italiani ok che ci piace molto bere il caffè meglio bere un caffè saluto saluto la parola e salutabile ok quello che si dica così non mi viene la parola e che non un caffè che ci faccia male ok in più e se noi consigliamo questi prodotti ci danno indietro un percentuale di soldi ok quindi ogni compra che noi facciamo c'è ogni prodotto ha dei punti questi punti si accumulano e quindi noi l'empresa ci ridà un percentuale che va dal 6% al 21% ok e quindi questo ok abbiamo prodotti tipi colesterolo diabete cancro tumori qualsiasi tipo per il controllo di peso ok per la gente vuole dimagrire la gente vuole mettere massa muscolare antibatterico anti infiammatorio ha detto le stress la depressione l'ansietà e l'asma la tensione il dolore di mal di testa l'emicrania è di tutto ok abbiamo prodotti che uno stesso prodotto si deve fare per diverse cose ok anche per le persone addite no per esempio la droga al fumo alcol abbiamo un prodotto anche per quello ok la prostata eccetera eccetera ok in potenza sessuale per esempio la pressione del sangue ok diuretico per molte cose ok quindi non è solo questo ci sono caffè e tè eccetera ok abbiamo anche pasta dei denti il sapone shampoo gel per la doccia ok quindi abbiamo creme anche delle creme per la fa per la faccia eccetera ok quindi abbiamo diversi prodotti il registro è gratuito ok no non costa niente e mi sembra che l'impresa siano se a roma se non sbaglio le spedizioni sono 5 euro e 24 ore ce l'avete se lo comprate al mattino e dopo ce l'avete ok e l'impresa è in 186 paesi quindi la gente che vuole lavorare vuole avere un'estra o la gente che non sta lavorando e vuole occuparsi del negozio che sappia che può lavorare in 186 paesi ok e dirà anche che dalla spagna inviamo a francia portogallo ok in spagna in spagna abbiamo il magazzino in italia c'è il magazzino però francia non ha ancora il magazzino quindi la spagna invia a francia ok ok qualsiasi cosa e mi scrivete mi chiedete se volete registrarvi e comprare prodotti assicuro che sono economicissimi ok sono veramente economici il cioccolato sono 20 euro e il caffè sono 15 pasti di denti mi sembra 12 i caffè 15 eccetera il tè sono 13 le capsule 13 e quindi e ti durano un mese un mese o il tè che durano due mesi ok quindi sono veramente economici ok boh ragazzi ci sentiamo ciao ciao